Ciao! Oggi faremo un video bellissimo! Faremo un assalto in lungo challenge sulla trave. Come vedete ci sono le nostre amiche del gruppo Silver! Non sono tutte, qualcuna che questa settimana sta facendo lo stage con noi. Fanno praticamente gli stessi nostri orari, giusto? Brave! Facciamo una carrellata, dai, come ti chiami? Valentina. Quindi vi presento Valentina, Sofia, Alice, Linda, Marta. Qualcuno ha già fatto qualche video con noi anche la settimana scorsa? Come scusa? Giulia. E Giulia. E Emma. Perfetto! Allora, le squadre le abbiamo già fatte. Quindi la squadra di Ginni qual è? Chi era prima con Ginni, vada con Ginni. E la squadra di Noemi? Ok. Quindi questa è la squadra di Noemi. Una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Quindi è impossibile. E voi? Una, due, tre, quattro. Ok, vedi che una, due, tre, quattro, cinque. Le abbiamo recuperate. Ok, allora aspettate un attimo. Allora, queste sono le squadre. Michi, prima con chi eri? Con la Ginni. Ok. Allora, tu eri prima con la Noemi e adesso fai l'arbitro, giusto? Ok, perché gli fa ancora un po' male il piedino e quindi il salto in lungo non lo fa. Va bene? Pronte? Parte la prima squadra. Fate bim bum bam tra Ginni e Noemi. Vediamo sta sfida. Chi vincerà? Chi, bim bum bam. E non abbiamo molto capito perché avete sussurrato. Allora, sono disperi. Io sono disperi ed arabali, ho fatto tre, lei due e disperi. Eh certo, quindi iniziano loro. Ok. Allora, avete un salto solo a testa, un salto secco a testa, più lungo che potete. Facciamo la somma delle due squadre. Vediamo chi è la squadra che salta più in lungo, va bene? Ok. Dani e desterimi, aiutate la micola. Ah, perfetto. Ok. Va bene. Volete fare una prova velocissima? Salite pure sulle travi, qualsiasi, e fate una prova se volete. Parte la squadra di Noemi. Giusto? Vai. Allora, avete che abbiamo fatto un bellissimo segno, quindi le dita partono sul segno, non avanti. Eh, brava. Tu controlla che sia perfetto, benissimo. Ok. Il tallone dietro fa il segno e chi invece cade il salto è nullo, eh. Quindi cercate di non cadere perché se no sono molti centivetri in meno per la vostra squadra. Sei d'accordo, Ginny? Ok. Sì, sì, puoi anche non dirmelo. Ok. Tanto poi facciamo la somma, dimmi. Il numero, la persona numero grande è tesa insieme. Non ho capito. Sì. Tutti, tutti. Tutti. La somma, sì, un tentativo, tutti, li teniamo tutti. Vai, Rihanna. Bravissima. Vai, misura, pronta. Chi è l'altra della squadra che è pronta? Pronta. Ricordami il tuo nome. Marta. Marta, vai. Ok. Nome? Valentina. Valentina, vai, arriva fino in fondo alla trave. Fondo. Dai, in fondo, vale. Fondo. Ok. Chi è pronta? Nome? Sofia. Sofia. In fondo alla trave. Carica bene, vai in fondo. Sofì. Brava! Giada. Giada, vai. Giada, vai. Arriva direttamente all'arrivo, Giada. Vai. Ole! Ok, la squadra di Noemi ha terminato il suo salto. Pronta la squadra di Ginni? Nessun salto nullo, bravissime. Nessun salto nullo, bravissime. Vai. Chi parte? parte Alice. Mi raccomando, Alice. Dai, la lunga! Eh, brava. Seconda. Linda, giusto? Ok. Sì. Non lo so come ho fatto. Marta? No, Giulia. Giulia. Vedi, ho sbagliato, Giada. Brava! Sofia. L'ultima che ha saltato, Sofia, l'ha infatta? Michi? Sì. Ok. Emma! Lunga! Su! Su! Lunga! E però il tallone era dietro, eh? Sì, ma fai dove hai visto te il tallone. Ok. Vai, Ginni! Dai, Ginni! Che salva, Ginni! Mi ha abominato con lo spazio! Dai, Ginni! Dai, Ginni! Dai, Ginni! Ah, bravissima! Abbiamo terminato? Ok, vai, contabili, fate il conto! E tra pochi istanti vi diremo la squadra che ha vinto. Vincono per un metro di distanza, più o meno, circa, ok, la squadra di Noemi! Che faccia mai, Ginni? Ginni! è poco competitiva te appunto ero ironica vai salutiamo speriamo che questo video vi sia piaciuto se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale lasciate un like e ricordatevi di attivare la campanella per non perdervi nessun nuovo video ciao